Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ultrasalivare Io penso che non possa essere voluto male semplicemente Grazie amore mio Sto cercando un medico per vincenzo ma non c'è No ma andiamo andiamo Eh ma sei su per loro tanto me la carriate voi Ovviamente C'è una macchina sinistra Ma c'è gente qua sotto Mi sa che è il solo questo Sono qua Jack dietro? No non è il solo non è il solo questo Ok Te non sbaglio Mi hanno tirato una bella legnata Cosa cazzo ne hanno tirato? Ma ragazzi ma... E' la... E' la cosa di capodanno Mi serve un medico Mi serve un medico Pizz Tenga MEDICIT MEDICIT PIZ Venga venga i miei Sono bancato non posso dare niente Non ci credo Ma io perché tu non mi puoi dare niente Non posso fare niente Non posso fare niente No dai ti prego No dai questo Quattro ti prego dammi un po' Ti prego dammi un po' Ti prego 2 Arcatraia perca puttare No 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 questo no dai No pizza no pizza questo non è giusto pizza Ma porco cazzo ma ti pare che proprio nel momento in cui mi serve il medico Ma dai Non potevo verso Ma dai Ah si certo Vi saluta Witcher ragazzi Da Witcher Da Witcher Vai aiuto Saluta Witcher Mi scusi Giamal cazzo fa Cazzo fa Ma che cazzo fa Cazzo fa Ma mi scusi Giamal Ma mi scusi Giamal Io devo andare su le rinnovo ancora i miei auguri di buon anno a lei e alla panina Figlio di puttana Solo così sai giocare Pezzo di bastardo Solo così sai giocare Dai oh grider Porco diavolo Niente niente Finisce così Finisce così 294 191 Vuoi mettermi giù la poison E io muoio 100-100 Ed è finita così Con la poison Che ce la fa Se vanno i bombardini Se vanno i bombardini Se vanno i bombardini Mi devi succare il cazzo Il cazzo Mi devi succare Figlio di puttana Oh il signor Rick dice Non vorrei disturbare il suo sontuoso pranzo ma deve pagare la bet Aspetta che adesso la pago Non trovo Non trovo il tovagliolo per appoggiare la forchetta però mentre sto mangiando per la bet e scusa pizze ieri da nezzo che ha detto free finali ok block no non so come si sbanna su tik tok mi spiace no troppo difficile troppo difficile mi spiace bannato mi spiace in privacy fare qui ma i moderatori possono farlo un moderatore puoi farlo andiamo davide vai a fare in culo dai fuori dai coglioni dai davide dai fuori dal cazzo momento di rompermi il cazzo oggi ragazzi vi banno tutti non me ne fotte un cazzo let's go let's go let's fucking go let's go se cazzo se cazzo ragazzi un cazzo di demone se non cominciare a ridere no lasciami stare lasciami stare lo faccio io ma chi è lollo e l'altro L'hollo e l'hollo e l'hollo e l'hollo bene così bene così mi piace mi piace di più pieno nettuno magari figa i primi cinque minuti allora invece ancora di inizia la live pensando di attaccare la leva già ficcato 25 40 morto 1 no ci ho provato ma mi è entrato pizze a queste pizze cento cento ad essere un nuovo tanto di un'offerta tra di loro porco porto dio ma magari non ha sentito pizze la vittoria fanno ripetere al resto c'è cristo ma chiesto chi con i quarti grazie ora domani domani si potrebbe allungare un po perché se passa il turno va avanti ok ma noi giochiamo alle 3 è corretto ma io il primo fight alle 3 io lo confermo io mai ti voglio bene ti ringrazio ok no non sapete ancora con chi sarà tra il vincitore tra marza e qui giorgia ottimo giorgio grazie ancora pizze grazie ancora alla prossima ciao 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 e chiudo settimo molto bene scusi ho sprintato e l'ho buttata fuori io il caro e festo col culo della macchina lo schizza da loro vito volare dio caro e festo 86 ho rancato di uno non ce la faccio più raga non ce la faccio più raga ok sopra non da qui non da qui da destra 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 e qui qui salga oddio prendo su esatto così perché 5 no la mia carta a fianco a fianco dietro e 3 e 3 ma che è chiaro e da la presa la presa no non la presa dove dove cazzo è la carta no io ho quinto tutto ve lo giuro no no ma dove cazzo sta pizza io pizza io non voglio fare apposto scusami ma non capito quello mi ride pizza e cazzo quest'altra non ho scoppiato non ho scoppiato non sono scoppiato minchia bisogna saltare tutto alla fine lì è tutta una questione di farla 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 e poi a un certo punto la becchi no ovviamente se fai una lobby di solo di 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 sei vebriati non ranchi eh no tu ti fermi al traguardo io arrivo primo easy merzia mi serve il tronco easy come mai morirai con il tronco assai io ti sbriciolo truppe torri te ne vai affanculo nice nice spacteo 20 mesi tu stare qua in mezzo non mi sembra perca dietro non capisco un cazzo dagli alert e questi che cosa? non ho capito non mi sembra il migliore di destra delle mezzo stavo dicendo ah dai vai due super